Prima di iniziare avrei bisogno di fare una piccola comunicazione di servizio perché giustamente molti di voi non mi conoscono, so quello che state pensando, ci tengo molto a dire che io non sono Roberto Saviano, lo dico soprattutto per i camorristi in sala, ci stanno camorristi in sala, è pieno di camorristi perché nessun camorrista mi ammetterebbe, cioè non c'ho niente contro Saviano, per carità, vado a tutte le manifestazioni per la legalità però ogni volta sono costretto a puntualizzare, siamo tutti Roberto Saviano, io no, per non somigliargli mi sono fatto crescere le orecchie, a me mi dà fastidio quando ridete sta battuta cazzo che ridete? Ho cominciato a prendere lezioni di romanesco, senti questa leggera calata romana, senti questo accento, no io so di marcianese, cioè sto a studiare a quattor pagnotta, da una buzzicona, a limorte, a limortà, o ambedi, sembro di Roma, sembro di Roma, sono napoletano io, nonostante tutto questo continuo a ricevere delle minacce di morte, dalla mia ex, in confrutti i casalesi sono i teletubbies, però, che può succedere a tutti che tu stai per strada e scambi una persona per un'altra, no? Io sono completamente rincoglionito, mi succede in continuazione, succede a tutti voi, no? Tu stai chiamando per strada, arriva un perfetto sconosciuto, ok? Che dice di conoscerti e tu cerchi di ricercare la sua faccia negli abissi della memoria, sull'hard disk, contro l'F, niente, e io in queste situazioni tendo a mettere in imbarazzo la persona, no? Dico, ah, sì, mi ricordo, come no? Ci siamo conosciuti dal dottor Pirelli, giusto? Stavamo in fila per lo sbiancamento dell'ano, giusto? Come è andata? Andata bene? Guarda, ti faccio vedere io... Oppure, gli ottimisti fanno, tipo, non mi dire niente, non mi dire niente, mi devo ricordare chi sei, non mi dire... Io sono più il tipo della, dimmi che cazzo sei! Ma sono tua madre... Mamma... Roberto... Sofia Loren... Chi ha riso a questa è veramente un demente... Portatelo via... Sono convinto di essere figlio di Sofia Loren... L'altro giorno me l'è successa un'altra, cammino in strada, arriva uno e mi fa, oh, Francesco, Francesco De Carlo, ma ti ricordi di me? No, 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 dai, sono Luigi, Luigi, no, scusami Luigi, non mi ricordo, sono completamente rincoglionito... Dai, sono Luigi, il fratello di Marianna, Luigi il fratello di Marianna... Avete fatto il liceo insieme? Marianna... Ah, Marianna, capelli rossi! Sì, oh, scusami Luigi, adesso mi ricordo, scusami, ti giuro, sono rimbambito completamente, quindi non me la ricordavo... Com'è stata tua sorella? È morta... Com'è morta? Sì... Oddio, mi dispiace Luigi, non la sentivo dal liceo... E quando è successo? Nel 1972... A lui... Io nel 72 manco ero nato, cioè... Mi dispiace per tua sorella, però non è la stessa Marianna... Io e te non ci conosciamo, ma ci avevamo fatto pian colpo... No, hai ragione, Francesco, ma in verità io non sono Luigi, il fratello di Marianna... Io sono Riccardo, il marito di Gorgonzola... Riccardo, il marito di Gorgonzola... Sì... Ma Gorgonzola è un formaggio... Sì... Ma... Scusa, ma... In Italia non... Non puoi sposare un... Un formaggio... Lo so, Francesco... È colpa del Papa... Non mettere il dito nella piaga... Mi dici chi cazzo sei? Hai ragione, Francesco... Hai ragione... Non sono né Luigi, il fratello di Marianna... Né Riccardo, il marito di Gorgonzola... Io sono... Amedeo Minghi... Amedeo Minghi... Sì... Il cantante... Sì... E che vuoi da me? Mi mandano i Casalesi... Amedeo Minghi... Amedeo Minghi... Amedeo... Li mortè... Li mortà... Ma che davvero? Davvero? No... In verità mi manda la tua ex... Grazie a tutti.